Negli ultimi anni si è sentito molto parlare di Azzurrina. La sua storia, tra leggenda e realtà, a distanza di secoli non ha mai smesso di interessare e spaventare. Ma chi è? E cosa è successo davvero ad Azzurrina? La sua storia, la sua storia, la sua storia, la sua storia. Quindi oggi finalmente torniamo in Italia. Probabilmente qualcuno di voi ha già sentito parlare di Azzurrina. Ma sapete che cosa è successo? E sapete perché questa storia, a distanza di secoli, continua ad affascinare l'Italia? Ecco oggi parliamo di una storia che passa dal true crime e arriva al paranormale. Preparatevi, non avete idea di cosa c'è dietro. Ci troviamo a Montebello di Torriana, in una frazione del comune di Poggio Torriana, che si trova in provincia di Rimini. Se fate un giro da quelle parti, non potete fare a meno di notare l'immenso castello di Montebello. Se volete visitarlo, si può fare, e sarebbe decisamente una visita interessante. Anzi, vi consiglio di andarci, ma a vostro rischio e pericolo. Perché al di là della storia effettiva del castello, di cui parleremo dopo, verrete istruiti sulla storia più inquietante della struttura. La storia del fantasma più famoso d'Italia, che abita proprio quelle mura. Azzurrina. Prima di continuare, però, velocemente vi devo ricordare che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video, come questa qua, che è la mia preferita di sempre. Cioè, basta, non c'è altro da dire. Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione, e vi ricordo che inserendo il codice ANDREW, riceverete anche delle calze a scelta in omaggio. Ragazzi, non so che cosa sia successo, scusate il cambio di inquadratura, ho dovuto riregistrare una parte del video. Non cambierà niente per voi, adesso continuiamo. La leggenda del fantasma di Azzurrina viene tramandata per via orale da diversi secoli. Almeno tre. Bastando alle informazioni ufficiali date dal personale del castello, sappiamo che, cito, figlia di un certo Ugo Linuccio, o Ugo Guccione, feudatario di Montebello nel 1375, fu la protagonista di un triste fatto di cronaca. Era il 21 giugno di quel lontano anno, quando nel nevaio della vecchia fortezza, la bimba scomparve e non venne mai più ritrovata. La penna di un raccoglitore di storie del XVII secolo fermò così su carta il lungo volo di quella che ormai era già diventata una leggenda. Azzurrina. Su sito ufficiale ci vengono date tantissime informazioni. Lì si racconta che questa bambina poteva avere dai 5 ai 10 anni. Il suo nome vero era Gwendalina, ed era nata con una condizione che al tempo era molto strana e particolare. Era albina. Per la gente del posto, pensare all'esistenza di un essere umano dalla pelle e dai capelli così chiari significava qualcosa di terribile. Nel senso che a quel tempo la gente era talmente tanto superstiziosa che avrebbe scambiato la bambina per un demone o una creatura sovrannaturale. Ed è curioso che col tempo effettivamente lo sia diventata, ma comunque i genitori della piccola vollero nascondere il fatto che fosse albina. Non potevano dare uno scandalo così grosso alla comunità. Pare che comunque le volessero bene, ma non abbastanza da combattere il giudizio altrui evidentemente. Così, per quanto figlia di ricchi signori, la povera Gwendalina dovette vivere praticamente segregata nel castello. Un po' come le principesse delle fiabe. Possiamo immaginare che stesse lì dentro da sola per giorni interi a guardare fuori, a vedere quel mondo che ancora non era pronto per lei. Una condizione davvero triste e terribile, specialmente se consideriamo che era solo una bambina. Infatti purtroppo non si limitano a tenerla segregata e basta. La cospargevano anche di ungenti e sostanze colorate per nascondere il reale colore dei suoi capelli e della sua pelle, che erano pallidi ovviamente, tendenti al bianco. La poverina così è stata costretta a vivere con queste sbobbe spalmate addosso per coprire quello che era. Ma la cosa ancora più triste è che queste modifiche estetiche non duravano molto. Anzi, perdevano di colore, macchiando i suoi capelli e a quanto pare anche la sua pelle. Il colore che risultava da questo processo era una sorta di blu chiaro, appunto azzurrino, e da qui il soprannome azzurrina. E sapendo questa cosa, il motivo per cui viene chiamata così, un po' mi dispiace, cioè il suo nome deriva dal risultato della vergogna, del bigottismo e della superstizione. È abbastanza triste. E non solo è stata costretta in casa per tutta la vita, ma pure macchiata, come se fosse un abominio da nascondere a tutti i costi. Infatti, possiamo immaginare che questa povera bambina non sia mai stata davvero felice durante la sua breve vita, nonostante fosse la figlia di un ricco signore. Però lo sappiamo, puoi essere ricco quanto vuoi, ma se non hai libertà, ogni cosa diventa triste e in questo caso soffocante. Ma perché ho detto breve vita? Beh, perché stando alle informazioni ufficiali degli attuali gestori del castello, Gwendalina venne coinvolta in un terribile incidente. Un giorno stava inseguendo una pallina di stracci con cui giocava. Era un giorno di pioggia. Improvvisamente le guardie che dovevano proteggerla sentirono delle urla. Corsero quindi verso una scalinata molto stretta, che portava nella stanza in cui veniva conservato il ghiaccio o il cibo. Le urla provenivano da lì, ma quando se ne accorsero ormai era troppo tardi. Infatti scesero in fretta nella ghiacciaia e non trovarono assolutamente nulla. Gwendalina era sparita. Immagino che quelle guardie vennero giustiziate visto il periodo storico e solo perché non erano state abbastanza veloci a capire da dove provenivano le urla. Questa però è solo una mia personalissima ipotesi. Cioè, in quei tempi ti veniva tagliata la mano per un furto. Figuratevi che cosa ti facevano per questo. Le informazioni ufficiali però non finiscono qui perché ci fanno sapere che dopo la scomparsa misteriosa di questa bambina nasce effettivamente la leggenda che la dipinge come un fantasma. Una presenza spiritica che vaga in quella scalinata e in quella ghiacciaia, urlando, ridendo e facendo rotolare ancora una volta la pallina con cui stava giocando prima di sparire. Ma da dove arriva questa informazione? Pare che a riportare queste cose sia stato un parroco della zona che nel 1620 scrisse un manoscritto. Si trattava di una raccolta di racconti locali intitolata Monsbelli et deline. Lì scrisse queste esatte parole. Cito. Si narra che allo scadere del sostizio estivo di ogni lustro un suono proveniente da quel sotterraneo cunicolo si faccia ancora sentire. Quindi questo prete ci dice che solo in rari casi Gwendalina si fa viva, tra virgolette, solo in certe occasioni possiamo sentire un suo pianto o qualcosa di simile. Forse il suono della sua voce o forse la palla con cui giocava. E per concludere le info ufficiali fornite dal personale del castello vi riporto una delle ultime diciture presenti nel loro sito. È un'informazione più recente che attesterebbe la veridicità di questa leggenda nonché del manoscritto di cui abbiamo parlato prima. Cito di nuovo. Siamo nel 1990. Il castello è aperto a museo da appena un anno. Ciò nonostante, la leggenda è già di dominio pubblico. C'è chi si schiera subito a sostenerla ciecamente. Chi la contesta? Molti la temono. Altri la deridono. Ma tutti ne parlano. Allora il 21 giugno di quell'anno tecnici del suono interessati a tali episodi effettuano le prime registrazioni. Le apparecchiature sono sofisticate. Tutte le frequenze vengono incise. In sede di studio si procede all'ascolto. Tuoni. Uno scrosciare violento di pioggia. Poi un suono. La leggenda continua a stupire studiosi e ricercatori. Si aggiungono immagini negli anni successivi. E le ricerche continuano. Ai turisti in visita alla Rocca vengono fatte ascoltare tutte le registrazioni. Ecco, in grande sintesi questo è quello che si racconta. Quello che sappiamo in modo ufficiale di questa leggenda. Una storia triste, vaga e misteriosa su una bambina costretta a non farsi vedere in giro e vittima di una circostanza che la resa il fantasma più famoso d'Italia. Pare essere stata registrata da un team poco noto e che i suoi suoni vengano riproposti ad ogni visitatore. Ma ora, cosa succederebbe se vi dicessi che quello di cui abbiamo parlato fosse quasi tutto falso? Ma perché qualcuno si dovrebbe inventare una storia del genere? Beh, i più scettici rispondono a queste domande parlando di denaro. Si pensa infatti che dalla ricostruzione del castello partita negli anni 70 e conclusa negli anni 80 fosse stata creata di proposito questa leggenda per attrarre più visitatori. Addirittura si dice che la leggenda di Azzurrina sarebbe stata presa anzi rubata da un film del 1966 di Mario Bava intitolato Operazione Paura. Questa cosa la fa notare il noto divulgatore Massimo Polidoro che ci spiega che in questo film si parla di una bambina che guarda un po' giocando con una pallina sarebbe morta in circostanze misteriose. La storia di questo film è stranamente ambientata in un castello infestato proprio dal fantasma di questa bambina. Tutto incredibilmente simile, vero? Ma non è solo questo che preoccupa gli scettici. Al di là di questa similitudine col film Operazione Paura c'è tanto altro che fa storcere il naso. Se andate a risentire bene le mie parole che sono per lo più le stesse che vengono riportate dalle fonti ufficiali noterete un'imprecisione dei dettagli quasi disarmante. In poche parole non si sa praticamente niente di certo. È tutto un po' vago un po' confuso e fin troppo suggestivo e quando un mistero è così pieno di incertezze è sempre bene non credere a tutto così alla cieca. Serve controllare un minimo in maniera oggettiva le informazioni che abbiamo. Come lo stesso Massimo Polidoro insegna bisogna andare alla fonte e ai fatti dimostrabili. Con questa logica viene da chiedersi chi erano i genitori di Azzurrina? Da dove sbuca questo castello? E il manoscritto in cui si parla di lei? Ok, con calma vediamo tutto. Dobbiamo capire cosa è vero e cosa invece è incerto. E per farlo dobbiamo parlare un attimo di storia come avevamo fatto nel video di Bloody Mary. Ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate e non l'avete visto ve lo lascio qui. Giusto? Qui? O qui? Vabbè comunque giuro che non sarò noioso come i prof a scuola. Quindi dal sito ufficiale sappiamo che il castello ha la particolarità di poggiare le sue fondamenta proprio sul picco di un monte. Si tratta di un complesso in cui è possibile leggere ancora con chiarezza gli interventi subiti nel corso dei secoli. Da quelli più strettamente militari a quelli finalizzati all'adattamento in dimora nobiliare. La torre comune e parte della fortezza sono ancora quelli della struttura originale che possiamo datare intorno all'anno 1000. Quindi è proprio un posto davvero ricco di storia. Ha tante cose da raccontare. La residenza signorile invece risale alla seconda metà del 1400 periodo in cui si passò dalla proprietà della famiglia Malatesta a quella dei conti guidi di bagno che sono tuttora i legittimi proprietari. Visitare il castello è sicuramente un'esperienza interessante infatti i cunicoli misteriosi e gli strani avvenimenti hanno un fascino non da poco ed è stato tutto questo ad alimentare la famosa leggenda di Azzurrina. Parole del sito eh. Infine sempre dal sito sappiamo che negli anni 70 c'è stata un'ampia ristrutturazione che si è conclusa negli anni 80 dopodiché la struttura è stata aperta al pubblico. Ecco le informazioni che vi ho dato adesso prese dal sito ufficiale servono per farci capire il periodo storico in cui si crede sia morta Azzurrina ovvero nel 1375. Ricordate questa data perché è molto importante. Ecco dato che la famiglia Malatesta per anni e anni ha vissuto tra quelle mura si potrebbe pensare che Azzurrina fosse figlia loro invece non è così e non è nemmeno figlia della famiglia successiva quella che tuttora ha in proprietà il castello. Quindi di chi è figlia? La stessa domanda che mi fanno tutti quando vado in Sardegna. Di chi sei figlio? Vabbè comunque abbiamo visto che suo padre doveva chiamarsi Ugo Linuccio o Uguccione ed era un feudatario di Montebello nel 1375. Ma la cosa strana è che di questo Ugo Linuccio o Guccione non ci sono prove. Non esiste alcun documento che provi la sua esistenza. Niente che possa dimostrare in maniera inequivocabile che fosse esistito e che fosse il padre di Guendalina Azzurrina. O almeno almeno questo è quello che si pensava finora. Mi rendo conto che vi sto facendo fare dei giri stratosferici con questa storia ma è giusto fare chiarezza. Ok abbiamo visto che il castello è fantastico è una storia particolare. I malatesta sono stati i proprietari più importanti ma nessuno di loro è il padre di questa bambina. Si dice che questo padre si chiamasse appunto Ugo Linuccio o Uguccione ma per anni si è pensato che non ci fossero documenti fogli o ritratti o in generale comunque nulla che lo riguardasse. Eppure una youtuber di nome Mickey Mystery ha fatto un bellissimo lavoro su questo caso e ha cercato il pelo nell'uovo di questa storia dimostrando di fatto in maniera inequivocabile che sì in realtà un documento su questo signore c'è. Questa ragazza è andata fisicamente a cercare informazioni sul presunto padre di Azzurrina. Il primo pensiero è stato quello di cercare proprio il manoscritto Mons Belli et Deline il libro di racconti del territorio che attesterebbe la veridicità di questo fantasma. Eppure le hanno detto che il libro era stato custodito fino al 1900 ma che poi era sparito nel nulla un po' come è sparita la stessa bambina per cui se non si può risalire a questo libro bisogna andare altrove la youtuber così consulta il libro di Tommaso Molari dal titolo Memorie sul castello di Montebello di Romagna del 1935 in questo libro ci sono dei passaggi molto importanti due in particolare il primo riguarda l'esistenza di qualcosa di paranormale all'interno di quelle mura lo scrittore infatti riporta queste parole all'interno del suo libro parole che fanno apparire l'intero castello come abitato da più entità sentite cosa ha scritto nella notte per chi vi si attarda sente salire dai trabocchetti rumori strani tonfi e vagiti paurosi di anime chiedenti pace fra le tante si narra di una comitiva che una notte datasi convegno fece degli scandagli nel trabocchetto dopo ore di lavoro avvertirono sotto il piccone un suono cupo procedettero con cautela ed ecco scoprirsi un volto a foglia di mattone lì certamente deve esserci il ripostiglio prima di aprire la breccia si fa approssimare il prete dovendo esso con scongiuri propiziare gli spiriti buoni e scacciare i maligni onde il tesoro non venisse involato ai cercatori fatto questo non senza una grande trepidazione in tutti viene spezzato il volto e in cambio del tesoro vi appare sepolto un guerriero con una spada al fianco che al contatto con l'aria svanì quasi di un tratto probabilmente non avete capito niente neanche io ho capito niente comunque in breve l'autore racconta di situazioni che riguardano altre entità e non parla proprio di azzurrina ma comunque fa intendere che sì c'è qualcosa di strano lì dentro questo è il primo punto sollevato dalla youtuber e in realtà di ben poche altre fonti online questo libro di Tommaso Molari attesta la presenza di qualcosa in quel castello ma è ancora troppo vago per capire se si tratta di azzurrina o di altri spiriti ancora sembrano altri spiriti ma comunque ora arriviamo sul pezzo il secondo punto sollevato in questa rivelazione e il motivo per cui almeno in parte questa storia sembra essere vera la youtuber Mickey Mystery ha scoperto un documento attendibile un documento citato nel libro di cui abbiamo appena parlato questo documento prova in maniera inequivocabile l'esistenza del presunto padre di azzurrina ebbene si scopre che questo atto e cito ha tenuto traccia della descrizione topografica e amministrativa dei luoghi nonché dei tributi e dei documenti della provincia Romandiola siamo nel 1371 e in un rapporto statistico dello stesso anno il descripcio provincia Romandiole dice espressamente che Montebello il feudo del castello era posseduto da un certo Ugo Linuccio di Montebello dice poi il documento in questione Montebello contiene 36 focolari un certo Ugo Linuccio lo tiene che riceve dalla camera di provvigione mensile 10 fiorini d'oro quindi che vuol dire tutta questa roba vuol dire che per conto della chiesa questo castello è stato affidato a questo signor Ugo Linuccio quindi è esistito davvero per cui la leggenda almeno da questo preciso punto di vista è vera ma qui c'è il ma perché non si parla di una figlia non si parla di nessuna guendalina e di nessuna zurrina di nessuna bambina albina né di alcun incidente domestico nessuna morte prematura nessuna femminuccia scomparsa niente di niente anzi si pensa addirittura che essendo questo Ugo Linuccio talmente poco considerato a livello storico è possibile che non abbia mai avuto nessun erede o se sì nessuno a cui attribuire tanta importanza il che è strano se ci pensate perché a quell'epoca i feudatari tenevano traccia di tutto c'erano documenti su ogni cosa ed è strano che un signore benestante non tenesse un diario delle memorie qualcosa comunque che attestasse l'esistenza di un suo erede o di una figlia tanto particolare quindi adesso le possibilità sono fondamentalmente tre o davvero questo Ugo Linuccio non ha mai avuto una figlia o se sì non come ce l'hanno sempre descritta oppure ha avuto Gwendalina e per vergogno o chissà quale altro motivo ha fatto sparire tutto compresa lei e qui c'è il lato crime della vicenda una teoria vede Gwendalina o Azzurrina figlia illegittima degli storici proprietari del castello ovvero la famiglia Malatesta molto probabilmente per vergogna questa ipotetica figlia illegittima non doveva essere vista perché la sua stessa esistenza rappresentava un affronto sia a Dio che al casato forse sotto sotto c'è un contesto meno paranormale di quanto si possa pensare perché ragazzi davvero è molto strano che Ugo Linuccio non abbia avuto eredi capita capitava e capiterà ovviamente ma se non fosse così e se Gwendalina in realtà non fosse semplicemente sparita senza spiegazione se fosse davvero stata figlia illegittima dei Malatesta e vittima di un delitto di corte magari è stata fatta fuori dalle guardie per conto di qualcuno dei Malatesta o dello stesso Ugo Linuccio o di sua moglie magari non la volevano più intorno magari non era nata albina ma semplicemente malata magari vittima di una condizione impossibile da curare all'epoca se devo essere onesto trovo più misterioso e affascinante questo aspetto della storia piuttosto che la storia del fantasma in sé come vedete serve fare delle ricostruzioni storiche per capire i contesti e soprattutto le persone del tempo quindi guardando bene che cosa abbiamo tra le mani adesso ci troviamo nulla non abbiamo niente tra le mani vabbè comunque dai sì abbiamo di sicuro un castello ricco di storia documentata poi abbiamo un feudatario al soldo della chiesa che nel 1370 circa è stato lì poi è sparito dalla storia se non fosse per questa leggenda di Azzurrina del 1375 e comunque tutto il resto è pura speculazione e fa emergere molto il sospetto che il tutto non sia altro che un'elaborata trovata di marketing per lanciare le visite turistiche al castello con questo però ci tengo a sottolineare che io non ho nulla contro i gestori della rocca assolutamente anzi vi invito a vedere anche solo le fotografie che ci sono sul sito ufficiale è davvero interessante e ne vale la pena ma tornando alla storia di Azzurrina ci sono altre controversie importanti di cui dobbiamo parlare come detto prima anni fa venne una troupe di esperti non meglio specificata che ha registrato dei suoni inquietanti nel castello suoni che rimandano ad Azzurrina e forse anche ad altre entità questi suoni li fanno sentire ad ogni visitatore del castello ma su youtube è stato caricato qualcosa sentite sono sicuramente registrazioni molto molto inquietanti che sembrerebbero addirittura provare l'esistenza di qualcosa dopo la morte la cosa strana però è che tutti i suoni registrati compresi anche alcuni video e foto fatte da questa troupe di esperti non meglio specificata ecco non sono analizzabili i gestori del castello non permettono in alcun modo di analizzare in maniera ancora più professionale questi suoni per capire se siano fake oppure siano veri quindi quello che vi ho appena fatto sentire non è detto che sia vero la leggenda però nel corso degli anni ha interessato molti italiani ed era inevitabile che interessasse anche degli enti legali e specializzati su queste cose infatti il divulgatore Massimo Polidoro sempre lui ha raccontato che ad un certo punto in questa storia è intervenuto il CICAP ovvero il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze ebbene stando al loro sito e a un loro articolo abbiamo un resoconto piuttosto sfortunato su questo caso coloro che hanno condotto questo nuovo esperimento sonoro nel castello di Azzurrina sono i ricercatori Simone Angioni e Marco Morocutti nell'articolo viene detto che hanno effettuato nuove registrazioni con strumenti ancora più sofisticati e lo hanno fatto il 21 giugno 2010 ovvero il giorno della ricorrenza quinquennale della scomparsa della bambina che sarebbe il giorno in cui si manifesta di più sono stati ad ascoltare e registrare per ben 10 ore e ciò che hanno registrato dice l'articolo dimostra che non vi è alcun rumore udibile con orecchio umano né attribuibile ad un'entità intelligente pessima notizia quindi infatti ha precisato l'altro ricercatore ciò che si può ascoltare è un assoluto silenzio e gli unici suoni che si possono rilevare utilizzando apparecchiature professionali sono debolissimi rumori di fondo tipici di ogni ambiente e che sono stati identificati tali rumori sono per esempio quello di un pavone all'esterno del castello movimenti di persone nel circondario una finestra che sbatte per il vento e deboli interferenze radio si tratta di uno di quei casi in cui come spiega Piero Angela quando il livello di controllo è molto elevato il fenomeno scompare quindi purtroppo azzurrina sembra essere solo questo un'invenzione ma ne siamo completamente sicuri ok non voglio sembrare un presentatore di mistero ma davvero questa leggenda è un sacco interessante che ci crediate o no di sicuro ci sono delle lacune storiche non indifferenti in questa storia e le poche cose che sappiamo sono anch'esse ricche di mistero come già detto penso di essere più interessato alla parte di Ugo Linuccio e al fatto che si sappia poco di lui cioè ragazzi io credo che se davvero azzurrina è esistita probabilmente è stato lui ad ucciderla il suo stesso padre e avrebbe poi inscenato tutto per far sembrare che si trattasse di una strana sparizione tanto pochissime persone sapevano dell'esistenza di Gwendalina per cui non sarebbe stato neanche difficile ucciderla ma comunque questo era il mio parere voi vi sarete fatti il vostro nonostante questo il mito di questa leggenda popolare è stato ampiamente discusso nel corso del tempo e tra certi medium si parla ancora di azzurrina come un fantasma reale una delle tante entità che infestano il castello e che è stata vittima di un passato a dir poco tormentato penso che in questo caso la verità anche se si scoprisse non farebbe molto la differenza cioè è paradossale me ne rendo conto ma pensateci bene se davvero tutti nel mondo credessero l'articolo del CICAP il castello avrebbe meno visite di base la rocca è molto bella e ricca di storia di per sé quello di azzurrina è ed è sempre stato un aneddoto del castello sopra cui si può montare una discussione infinita di sicuro è strana tutta questa riservatezza da parte dei proprietari ma magari fa parte del gioco io la vedo così fantasticare non è un reato per cui in maniera democratica ognuno può vedere e sentire quello che vuole in questa storia e credo che non ci sia niente di più giusto si dice che certe persone sentendo gli audio che vi ho fatto sentire abbiano sentito i suoni più disparati ma al di là di questo questa è una storia su cui nessuno può farsi male al massimo può avere gli incubi la notte per cui siate liberi di credere o non credere eppure di misteri questa storia ne è piena e continua a sorprendere ho letto da qualche parte per esempio che fra le mura del castello è stato girato un film su Azzurrina un lungometraggio horror del regista Giacomo Franciosa la cui lavorazione però sembra essere stata sospesa diverse volte e in circostanze piuttosto misteriose anche qui non si sa se è stato fatto tutto apposta o se magari ci sono stati problemi interni di cui non conosciamo i dettagli l'ho trovato comunque un aneddoto molto interessante e volevo raccontarvelo fatemi sapere se volete fare visita al castello anche perché spulciando un po' sul loro sito ho visto che fanno anche delle visite notturne c'è scritto che in queste visite si affronta soprattutto l'aspetto paranormale della rocca dice il sito che durante queste visite si trattano gli aspetti più truci ed oscuri del medioevo si parla anche dello svolgimento delle ricerche sul paranormale e si tratta senz'altro di una visita suggestiva e sicuramente complementare alla visita diurna beh quindi leggenda vera o falsa di base la trovo una figata infatti sempre il sito ci tiene a dire una cosa importante su questa leggenda una considerazione che riguarda le famose e contestate registrazioni cito ai turisti in visita alla rocca vengono fatte ascoltare tutte le registrazioni le reazioni rimangono tuttora le più diverse se non addirittura contrastanti ad alcuni sembra un pianto di bambina ad altri una risata molti dicono di sentirci una voce distinguerci una parola tanti altri sostengono di non sentirci né più né meno che vento e pioggia nel temporale lasciando libera interpretazione vi invitiamo al castello affinché anche voi possiate formarvi un personale giudizio infatti qual è il vostro giudizio ci siete stati oppure ci andreste mai fatemi sapere intanto ai pochissimi fedeli che rimangono fino a qui anticipo che presto torneremo a parlare di culti particolarmente di un culto che mi ha davvero turbato e di cui non si sente mai parlare lo trovo davvero assurdo per cui spero che rimarrete nei paraggi se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante scriviti e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo come sempre di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 ciao